Il punto debole di Trump è il Covid. Il punto di forza di Trump è la sicurezza. Se gli americani voteranno sul Covid il presidente non sarà rieletto. Se gli americani voteranno sulla sicurezza sarà rieletto. Grazie a Maurizio Molinari, adoro la sua chiarezza e anche la sua capacità di dire con una battuta tutto. Grazie davvero a Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, torni a trovarci presto.